Bilancio e finanziaria sono all'esame della seconda commissione dell'Assemblea regionale siciliana. Il lavoro sui documenti contabili, cominciato venerdì e poi sospeso, è ripreso ieri e prosegue anche oggi in una lunga seduta con il governo, presenti gli assessori. L'obiettivo è di esitare in tempi stretti i documenti contabili per permettere all'Aula di discuterli e votarli entro il 31 gennaio, quando scadrà il mese di esercizio provvisorio. Per questo la Giunta ha presentato una finanziaria snella, puntando a rimandare il dibattito politico sulle altre spese nel collegato, per il quale però servono i fondi, almeno una cinquantina di milioni, necessari drastici tagli su alcuni capitoli. Le spese calano di 18 milioni e mezzo. La scure si abbatte soprattutto sulla cultura, sull'antimafia e sul welfare. Il fondo di solidarietà per le vittime di estorsione scende da 696 mila euro a 83 mila e 400. Tagli in minore misura anche ai fondi per gli olfani delle vittime di mafia e quello per gli imprenditori che denunciano il racket. La regione impone una dieta anche ai teatri siciliani. Per tutti i tagli importanti, Taormina Arte ha avuto quasi dimezzato il contributo, ha zerato quello della Scuola del Cinema, che aveva avuto 424 mila euro l'anno prima. Sempre meno i soldi che vanno agli enti della ex tabella H, solo 6,2 milioni. Chi mantiene più o meno lo stesso budget sono enti regionali e università, mentre si taglia un po' dalle parti della protezione civile e del welfare, minori, madri povere, non vedenti, malati psichiatrici. Taglio rilevante anche al capitolo destinato alla promozione del turismo, che vede più che dimezzato il budget scendendo a 1,8 milioni.